Consigliere provinciale, questa mattina si continua a parlare di sviluppo dell'area grecana che in realtà su un mando regionale o meglio comunitario, recepito dalla regione Calabria. Noi però abbiamo già sentito che ci sono più opinioni su come proporsi e credo che per i tempi che ci sono, se ci sono delle divisioni si rischia di non fare un buon servizio alla comunità. Sì, va bene, io intanto prendo come buono l'auspicio quello della regione Calabria che invia in corso d'opera degli aiuti a livello tecnico perché possono dare dei chiarimenti, però è anche vero che questi chiarimenti non possono essere l'unica soluzione in quanto nel frattempo stanno marciando spediti i tempi per la scadenza ufficiale della consegna del progetto vero e proprio che è il 19 giugno, addirittura 5 giorni prima perché abbiamo fatto un passaggio al protocollo della provincia per dare il tempo della valutazione sul progetto all'ente provincia perché il PIS, lo ricordiamo, è un braccio attuativo, uno strumento attuativo del PSR che è il piano regionale. Immagino che 5 giorni dal protocollo della provincia alla consegna non siano necessari neanche all'ente provincia, non per mettermi in difesa dell'ente provincia, ma per far rilevare a tutti coloro che si sono interessati in questi giorni dei PIS e quindi mi possono seguire, che altrimenti il cittadino comune immagino che non riesca neanche a seguire, che 5 giorni non sono un termine congruo, sono un termine così come non lo sono i 60 giorni dall'emanazione del bando alla consegna del progetto completo. Vuole dire che la regione sta pagando un ritardo in quanto i 7 rami di intervento, le 7 linee di intervento dei PIS che erano state bandite da un unico bando, scusate il bisticcio di parole, scadevano il 12 dicembre. A quella data stranamente due PIS, quello della misura al contrasto allo spopolamento e quello sulle minoranze linguistiche, sono stati differiti senza nessuna delibera regionale che li interrompesse, per cui al bando si poteva partecipare tranquillamente, esprimere tutte le energie del territorio in modo poi inutile e senza frutto perché di fatto poi è uscito un altro bando successivo in cui si davano le linee guida dichiarate mancanti nella prima fase e quindi per colmare questo ritardo la regione Calabria adesso sta accelerando i tempi in quanto fanno parte, questi PIS e questo PSR fa parte dei finanziamenti comunitari del sessennio 2007-2013 e se tutti siamo coscienti di essere nel 2012 ormai inoltrato, sappiamo pure che la scavenza di questi fondi, di questa programmazione è alquanto vicina, per cui questa frezza non porterà o comunque non ha portato sin qui bene, adesso noi non possiamo sbagliare come aria soprattutto per il PIS o minoranze linguistiche perché quello sullo spopolamento coinvolge un po' tutta la provincia, 32 comuni che sono al di sotto della soglia di 1500 abitanti e che abbiano avuto un decremento del 5% di spopolamento costante negli ultimi 10 anni e questo che riguarda la nostra area giustamente deve vedere un'univocità di pensiero, si è raggiunta, questo per dare un'informazione, una linea comune sull'indicazione del capofila che adesso non può fallire nel ruolo di gestione, di coordinamento, anche se poi c'è un coordinamento più ampio che deve essere individuato all'interno del partenariato di progetto, quindi non possono fallire questi attori e tra cui c'è anche la provincia, quindi in questo caso mi ci metto anch'io, non possiamo fallire nel trovare una linea comune per rispettare questa tabella di marcia che a questo punto non è tipica di un progetto, è forzata e quindi è l'andamento forzato, dobbiamo riuscire a concentrare l'obiettivo. Bene, ma ringraziamo comunque lei anche per il ruolo che esercita, è l'unico consigliere provinciale e lo ribadiamo nell'area, nelle minoranze linguistiche, faccia come sa fare, dia il massimo di collaborazione perché non si perda anche questo treno. Certo, il mio ruolo sin qui, soprattutto nella fase precedente, è stato quello soprattutto di limare, smussare qualche angolo che si crea nel corso degli anni tra vari amministratori dei comuni, non so se è solo per una specie di campanilismo, ma anche per la gestione.